Naturalmente ci torniamo, adesso invece si apre il nostro spazio dedicato all'economia perché, ve lo dicevamo, il governo è ancora a lavoro sul decreto aggiorno di un'altra settimana. Dalle misure annunciate parliamo con Daniele Baccarino, Presidente di CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ben trovato su Rai News 24. Tra le misure che potrebbero essere inserite in questo decreto, il bonus consumi, una misura che dovrebbe coinvolgere anche bar, ristoranti, spingere dunque l'affluenza nei centri storici delle città che sono svuotati da questo lockdown, per i quali si pensa ad un nuovo contributo a fondo perduto. Secondo voi potrebbe funzionare anche se la misura sembra abbracciare soltanto 5 mesi? Ogni contributo per questo settore particolarmente colpito e che ancora non si è assolutamente ripreso è benvenuto. Certamente deve essere costruito in maniera che non pesi e non sia un ulteriore aggravio per le nostre imprese, altrimenti rischia di non funzionare. Gli sindacati spingono per la proroga, lo stop e i licenziamenti fino a fine anno. Dal punto di vista delle piccole e medie imprese, questo provvedimento potrebbe contribuire a mantenere i livelli occupazionali o si rischia un effetto boomerang? Si rischia anche un aspetto boomerang. Il problema però è che si conosce troppo poco in Italia qual è il concetto e come sono le piccole imprese. Da parte nostra, nel nostro settore, nell'artigianato, nel mondo delle piccole imprese, i nostri collaboratori sono la nostra forza, per cui la tendenza al licenziamento è estremamente limitata soltanto nei casi in cui proprio un'impresa non riesca ad andare avanti. Allora, se così è, oggi bisogna sicuramente ancora continuare a dare sostegno perché sappiamo che l'economia stenta a decollare, ma dobbiamo mettere in piedi delle nuove forme affinché l'economia riparta altrimenti non funziona il nostro sistema che continui soltanto a dare dei sussidi. A favore dell'occupazione è anche la proroga della cassa integrazione per il Covid che prevede un contributo anche da parte delle imprese che non hanno subito forti perdite di fatturata. L'azienda conviene o è più utile l'incentivo al rientro dei dipendenti con decontribuzione per quattro mesi? L'incentivo al rientro dei dipendenti e soprattutto, direi io, gli incentivi a nuove assunzioni sono fondamentali però deve esserci una economia che riprende, altrimenti questo non può avvenire. Noi sosteniamo da tempo che siano necessarie politiche più attive e non solo di sostegno al reddito cosa peraltro necessaria e che in questi periodi è stata assolutamente utile e indispensabile ma oggi bisogna cambiare passo, altrimenti il rischio di continuare a non far ripartire questa economia. Ecco, e dunque le politiche più attive, se può essere più preciso così, quali sono secondo lei le priorità individuate dal governo vanno in questa direzione? Parzialmente, oggi noi sosteniamo che bisogna lavorare per far ripartire l'economia, altrimenti questo non succede. Faccio un esempio molto semplice, se fossimo in una foresta dobbiamo passare dall'aliana dove ci tenevamo per appunto tenere in piedi l'occupazione ad un'altra che è quello del sostegno a chi fa ripartire l'economia. Allora, la politica attiva per esempio significa che bisogna incentivare le assunzioni, soprattutto a tempo indeterminato, bisogna dare spazio all'assunzione anche a tempo determinato, per esempio eliminando le causali, insomma bisogna favorire in tutti i modi l'occupazione. Grazie a Daniele Vaccarino, Presidente di CNA, per essere stato con noi. Grazie a voi.